Dopo la separazione con la ex moglie, il ragazzo inadeguato Max Pezzali si è fatto più volte paparazzare con la nuova fidanzata Deborah Palamatti, eppure le voci sul suo conto erano altre. Infatti in realtà lo stesso Max Pezzali, nonostante sia ormai una star e un'icona di diverse generazioni, ha confessato di essere sempre stato un po' sfigato, soprattutto in fatto di donne, definendosi lui stesso, almeno per ciò che riguarda gli anni 90, quanto di meno arrapante occupasse la scena musicale italiana. Una dichiarazione indubbiamente particolare che ha rilasciato lui stesso in una lunga intervista con Linus. Non ho mai avuto modo di conoscere moltissime gruppi, anzi ha dichiarato, oggi i rapper sono i più quotati da questo punto di vista, ad esempio, ma io con gli 883 cosa volevo fare? Credo fossimo la cosa meno arrapante del mondo, appunto. A 20 anni di distanza invece Max Pezzali si sta ampiamente rifacendo con la sua nuova fidanzata Deborah Palamatti.